facciamo un bellissimo momento con il mio artillo guardate che meraviglia mi sembrano anche belli cominciamo con questo che meraviglia che fortuna questo bravo poi c'è quello più grosso speriamo che abbia un bel gambo speriamo nel gambo c'è tutto ragazzi oh che gambo che fortuna questo fungo è bellissimo 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 bello bellissimo 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 allora ragazzi siamo ancora nel mio artillo molto 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 in alto guardate qua questo però è un porcinello molto bello ce ne sono altri bellissimo colore ma ci sono anche i porcini andiamo a vedere con la coda dell'occhio qui mi sembra molto bello molto molto bello c'è anche il piccolo si può dire piccolo pronti via vediamo oh mamma ragazzi che meraviglia ragazzi ecco la stanchezza passa dopo questo la stanchezza è passata che meraviglia bellissimo che emozione ragazzi che fortuna ah scusate porca miseria non ci credo non avevo visto il fratello porca miseria non ci credo oh che splendore mamma mia che fortuna ragazzi facciamoci un oggetto di quelli giusti giustissimo come sei bello ma come sei bello momento importante l'emozione quando l'ho visto spiego perché guardate guardate che meraviglia guardate che meraviglia oh mamma mia ragazzi pulita eccolo ecco bene piccola mamma mia che emozione ragazzi che fortuna vediamo questo tombolotto mmm che tombola bellissimo bellissimo ragazzi un'altra meraviglia ha una forma bellissima guardiamo com'è guardate che meraviglia guardate che meraviglia oh che grande ragazzi che grande si 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 ecco qua assolutamente il nostro aggettivo libero è tutto ci sta ci sta tutto per voi a voi a voi l'aggettivo è durissimo senti che meraviglia vediamo questo com'è oh questo è bello oh questo è bello bello anche qua ci sono due porzini bellissimi vediamo un po' vediamo un po' allora allora eccolo qua una 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 ragazzo mio ragazzo mio come sei meglio poi ci spostiamo andiamo qua eccola la sotto no 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 andiamo a vedere allora appoggiamo qua qua vieni qua vieni qua oh non c'è ecco 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 qua mamma mia ragazzo guarda il colore mamma mia che fortuna che fortuna che fortuna è un bellissimo trittico uno uno due e quattro due tre ragazzi sono emozionato a mille vediamo com'è ho intravisto una cosa probabilmente finta sto sognando tra poco mi sveglierò dal sogno e sentirò la sveglia patatone vediamo un po' qua se riusciamo ad inquadrare una bellezza un bello oggetto qua vediamo vediamo uuuuuh commento libero ragazzi allora abbiamo appena raccolto questo ricordate ci sono stati po' guarda qua un'altra meraviglia bellissima allora vi ricordate qua abbiamo appena lasciato questo mi sono spostato di pochi metri e anche l'oggetto guardate non credo non credo scuro scuro che meraviglia che eleganza ragazzi che fortuna che fortuna che fortuna che fortuna che bel colore ragazzi che bella testolina questa vediamo qua questo ragazzi difficile da vedere il colore dei fogli perfetto bello 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 qui c'è un altro oggetto bello bello vediamo un po' andamolo a vedere guarda 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 qua eccolo qua solleviamolo bello 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 bianco 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 ci spostiamo dall'altro eccolo qua eccolo qua bel tombolotto bianchissimo e vai vediamo qua ragazzi ce n'è uno perfetto uno io sono cia 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 vediamo questo c'è un bel tombolotto bello 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 bellissimo vediamo com'è ooo palla porcino a palla ragazzi un bel tombolotto e un po' qua ha un bel oggetto il suo carattere uuuu bombolone uuuu ragazzi che bombolone uuuu che bombolone un altro è nato storto vediamo perché uuuu uuuu mamma mia uuuu ma che gambone ma che gambone che ho uuuu vediamo questo com'è vediamo un po' tutto questo è carino è carino guardate hanno il colore delle foglie ora sono difficili a vedere cia 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 ragazzi è pieno ripido uuuu che tombolotto non lo vedo più eccolo qua credibile non lo vedo più eccolo qua eccolo qua mamma mia ce l'ho davanti non si vedeva incredibile sai che a volte non li vedi bellissimo belli belle sai sei adesso Grazie a tutti.